Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato le operazioni di controllo del territorio della provincia ai fini della lotta al contrabbanto di tabacchi lavorati esteri. Durante le operazioni di servizio, all'interno di un esercizio commerciale di Monte Corvino Pugliano, è stato rivenuto un chilogrammo di tabacchi lavorati nazionali, detenuto per la vendita dalla titolare, senza le prescritte autorizzazioni. Nel corso di un ulteriore controllo eseguito nel centro cittadino del Comune di Scafati, nei confronti di una donna già nota alle forze dell'ordine, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 12 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando di varie marche. Le responsabili sono state segnalate all'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli per l'erogazione delle previste sanzioni.